Primo allenamento per l'Ascoli 2013-2014 qui al Centro Sportivo Città di Ascoli. La squadra di Mister Pergolizzi si sta allenando in atmosfera molto calda, non solo per la temperatura alta di questo luglio, ma anche perché è presente una nutrita rappresentanza di tifosi bianconeri che stanno sì sostenendo la squadra, ma anche contestando alcuni giocatori e soprattutto la società del presidente Roberto Benigni, che era presente, è rimasto qui al Centro Sportivo per circa un'ora e mezza, poi poco fa se ne è andato insieme al nuovo direttore sportivo Fabiani. Prima di uscire qui al Cancello ha avuto un breve confronto con alcuni tifosi, ma il tanto atteso dialogo con alcuni rappresentanti degli U3 1898 non c'è stato per il momento e quindi rimane un po' questa spaccatura, tante polemiche nelle ultime settimane. Staremo a vedere, noi di Piciano Time come al solito cercheremo di monitorare la situazione. Ripetiamo, è un momento delicato per l'Ascoli, si sta ripartendo e i tifosi qui alle mie spalle stanno cercando di esternare civilmente tutto il proprio malcontento perché la retrocessione è stata mara, ma soprattutto per il futuro non sembrano esserci prospettive rose, anche se nel corso della presentazione di oggi all'Hotel Villapigna il presidente Roberto Benigni ha confermato il suo impegno e con uno staff nuovo si punta a mantenere l'Ascoli nel calcio che conta.